Musica Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione su Telebari e Radiobari da Barbara Cirillo. In apertura, emergenza, igiene e pulizia urbana. Questa mattina l'AMIU ha posizionato nuove multitrappole per topi e ha reso operativo il nuovo macchinario antiblatte. Ma sarà sufficiente? Silvia Di Pinto ha fatto per noi il punto della situazione insieme al presidente dell'AMIU Gianfranco Grandagliano. All'apparenza cestini portarifiuti in realtà potenti multitrappole per incastrare fino a 80 topi, attirati da una sostanza biologica entro un raggio di 100 metri. Il contenitore letale per i roditori è stato posizionato questa mattina in piazza Garibaldi a pane pomodoro e a parco 2 giugno. Un modo questo per rispondere alle tante segnalazioni dei cittadini allarmati per le condizioni igienico-sanitarie della città. E questa mattina è partito anche da via Argiro il calendario di disinfestazione contro le blatte, che a cominciare dai quartieri Miura e Libertà porterà in tutta la città il termone biogeno, un nuovo macchinario che consente di spruzzare il veleno fino in profondità. Su pulizia e igiene urbana il livello dell'attenzione resta alto, lavaggio delle strade, dei cassonetti, disinfestazione, spazzamento e condizioni del litorale sono i principali fronti sui quali si concentrano le lamentele dei cittadini, alle quali l'AMIU risponde con la promessa di acquistare nuovi macchinari e rendere quanto prima operative 5 squadre in più, almeno per il lavaggio. Oltre per il caldo c'è una maggiore utilizzazione da parte dei cittadini degli spazi aperti di tutto il territorio comunale. Noi abbiamo rafforzato i servizi di disinfestazione, di deratizzazione, abbiamo assunto a tempo determinato personale per fare un'attività suppletiva nelle zone maggiormente frequentate dei cittadini per un doppio passaggio. Abbiamo potenziato raccolti e bidoni per il vetro sul lungomare, ma stiamo riscontrando uno scaso successo perché troviamo di tutto in questi bidoni ma non nel vetro. Lavaggio strade e cassonetti, invece questa è un'esigenza particolarmente avvertita d'estate. Lavaggio cassonetti c'è una ditta che da inizi di luglio sta facendo il lavaggio di tutti i cassonetti della città e in aggiunta alla nostra squadra che di notte continua, quindi per giugno e luglio agosto completiamo tutta la città. Per quanto riguarda il lavaggio strade, ba e pulita continua. Ancora veleni in procura, non si placano le polemiche dopo la lettera con la quale la PM Desiree di Geronimo spiega ai cittadini le motivazioni che l'hanno portata al trasferimento da Bari a Roma. Oggi parla la giunta distrettuale di Bari dell'Associazione Nazionale Magistrati che esprime il proprio rammarico per il discredito che è stato gettato sull'intera magistratura, sul suo organo di autogoverno e sulla stessa associazione. Secondo la giunta barese è doveroso sottolineare come il magistrato non possa sottrarsi alle regole che è chiamato a far rispettare. La scelta della dottoressa di Geronimo, rileva l'Associazione Nazionale Magistrati, non può e non deve portare a cercare il consenso popolare per fini evidentemente extragiudiziali. Nello scorso fine settimana, dal 26 al 28 luglio, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale della Puglia ha registrato e gestito 197 segnalazioni di incendio, delle quali 13 relative ad aree boschive di macchia e le restanti riferite a sterpaglie e 19 falsi allarmi. Lo si afferma in una nota in cui viene anche specificato che nel weekend, previsto tra i più caldi della stagione, non sono stati utilizzati mezzi aerei schierati a grottaglie grazie all'intervento degli operatori a terra come il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, gli Operai Arife e i Volontari di Protezione Civile. Inaugurate questa mattina due delle 22 colonnine Enel di ricarica dedicate alla mobilità a zero emissioni. Il servizio. Bari Smart City che mantiene le promesse, come quella dell'installazione di una rete di infrastrutture pubbliche di ricarica dedicata alla mobilità elettrica. Bari si conferma infatti prima città del mezzogiorno con attive ben 23 colonnine pubbliche Enel di ricarica, una già inaugurata a gennaio di fronte al Teatro Petruzzelli, le altre 22 posizionate in punti strategici della città, due delle quali sono state inaugurate questa mattina in corso Vittorio Emanuele alla presenza tra gli altri del delegato al traffico del Comune di Bari, l'On. Antonio De Caro. L'avevamo promesso all'inizio dell'anno, oggi inauguriamo altre 23 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, sono 24 dopo la prima inaugurazione, l'obiettivo è di raggiungere il numero di 50 entro la fine dell'anno e di essere una delle città più smart d'Italia, forse d'Europa almeno sulle ricariche elettriche. Partner del Comune di Bari nel progetto europeo Smart Cities è l'Ener rappresentato questa mattina dal responsabile Infrastrutture, Reti, Puglia e Basilicata, Roberto Zanchi. È una punta d'orgoglio perché è la prima città del sud che ha realizzato una rete di distribuzione e di ricarica delle auto elettriche che non possiamo più definire solo un semplice progetto pilota. È un primo lotto e altre ne verranno implementate in un secondo momento dopo che verrà effettuato uno studio sull'utilizzo delle prime 23 che sono state installate. E a proposito di Smart City arriverà presto una novità dal Comune di Bari. In questi giorni stiamo programmando la possibilità immediata di poter pagare il biglietto sia del trasporto pubblico e sia della zona sosta regolamentata nel centro cittadino utilizzando il telefono cellulare, abbiamo finito la sperimentazione, avevamo promesso che nel periodo estivo saremo partiti anche con questo progetto, ci siamo riusciti, è già possibile oggi scaricare l'applicativo per chi ha uno smartphone con Android e la prossima settimana, grazie a un accordo con la Apple, sarà possibile scaricare anche l'applicativo per l'iPhone. Consegnato questa mattina nella sala del colonnato della provincia di Bari un attestato di merito alla scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari alla presenza del presidente della provincia Francesco Schittulli e degli assessori Sergio Fanelli e Giuseppe IV. La targa è stata consegnata in seguito al prestato soccorso a due donne in difficoltà a largo della spiaggia di Pane e Pomodoro lo scorso 7 luglio ad opera di un'unità cinofila dell'associazione. Presenti alla consegna della targa anche tre eroi a quattro zampe. Unire il passato con il presente attraverso una rete di castelli è questo l'obiettivo di Adristorica Lens, il progetto realizzato dalla provincia di Bari con fondi europei finalizzati alla valorizzazione delle risorse culturali dei territori che si affacciano sull'Adriatico, percorsi tematici, mostre e guide interattive per smartphone raccolte in un catalogo comune per territori che vanno dal Montenegro alle Marche e dalla Croazia a Bari. I finanziamenti comunitari, ha detto il presidente Schittulli, sono uno strumento importante per la realizzazione di progetti utili per le autonomie locali. La provincia di Bari potrà usufruire di un budget di 250 mila euro a fronte di un finanziamento complessivo per il progetto di 3 milioni e 900 mila euro. E ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, le temperature saranno comprese tra i 23 e i 38 gradi, venti moderati e mari poco mossi. Come di consueto in chiusura vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. Per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato è infochiocciolalsegnodizorro.it. Inoltre vi ricordo che in coda al nostro Tg andrà in onda il servizio speciale dedicato al mare di dialoghi. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Il porto è luogo di accoglienza, storia e tradizione dove si incontrano culture diverse che parlano la stessa lingua, quella del mare. Dalla splendida cornice del porto vecchio di Tricase parte quello scambio di esperienze che danno vita ad un mare di dialoghi. Il confronto promosso dal Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei di Bari e dell'Associazione Magna Grecia Mare ha arricchito quel rapporto di collaborazione tra i paesi trasfrontalieri di una conoscenza condivisa, mission di questa iniziativa. Sappiamo che il nostro mare è sovrasfruttato, noi siamo per la sostenibilità della pesca, della piccola pesca, e vogliamo valorizzare, partendo da porti come quello di Tricase, quella capacità dei nostri pescatori e agricoltori, perché il concetto di multifunzionalità si applica benissimo. Il mare, la pesca, la vocazione naturale dei nostri territori, un bene da tutelare che oggi rappresenta una risorsa indispensabile di crescita e sviluppo. Stiamo cercando di dare la massima attenzione al settore nel suo complesso, ma anche a queste iniziative di sviluppo territoriale e locale che costituiscono non sicuramente una soluzione per tutti i problemi, ma per il territorio sono una risorsa fondamentale. Pesca sostenibile e tutela delle acque sono queste la chiave per sviluppare l'economia del mare a cui oggi le istituzioni guardano con attenzione. Anche la comunità europea ha capito che la piccola pesca gioca un ruolo anche di tipo ambientale. va riconvertita, va salvaguardata e soprattutto va incoraggiata e sostenuta al contrario del passato che veniva vista come la cenerentola del settore. La promozione del territorio passa così anche attraverso la valorizzazione delle sue risorse. Ha un passato che si rinnova conservando le tradizioni, le origini, la conoscenza, la cultura, mantenendo intatta quella forza che la città ci dà, questa popolazione ci dà, questi pescatori, questi nostri agricoltori. Abbiamo una comunità molto forte, compatta, che ha paura soltanto del turismo di massa che è assoso e che tutto consuma.